Eccoci qui per una nuova analisi sui dati di mercato della città di Sassari, la nostra città. Oggi parleremo del quartiere del Monte Rosello, quartiere con tanta storia di questa città, semicentrale e con un'elevatissima estensione territoriale. Se è un immobile da vendere o stai pensando di vendere o sei semplicemente un proprietario di un'abitazione in questa bellissima zona, in questo bellissimo quartiere, troverai questo video sicuramente interessante con tante informazioni utili, anzi direi utilissime. L'Agenzia del Territorio ci dà un dato di Massima che racchiude il quartiere appunto di Monte Rosello e lo chiama anche Sacro Cuore per chi conosce questa zona. Ci dice che nel 2022 ha totalizzato circa 141 transazioni immobiliari residenziali con un valore medio di 1.088 euro al metro quadro e qua abbiamo praticamente il 10% del mercato di Sassari che nel 2022 ne ha totalizzato ben 1.397 e il trend dei valori rispetto al 2021 è positivo per l'1,8%. Questi sono i dati che abbiamo, troviamo pubblicati. Noi siamo andati ad analizzare i valori medi di ciò che c'è in vendita e poi i dati più importanti ancora, quelli del venduto. In vendita potete vedere abitazioni tra i 30.000 euro in questo quartiere e i 325.000 euro, una grandissima forbice, un'ampissima forbice. I valori del venduto nel 2023 abbiamo voluto suddividerli per metratura che racconta come abbiamo detto precedentemente anche l'epoca costruttiva e anche qua le metrature residenziali negli anni si sono rimpicciolite. I mobili venduti oltre i 200 metri quadri ne abbiamo in realtà rilevato nel 2023 solamente uno in via Antonio Piga per euro circa 701 euro al metro quadro. Tra i 150 e i 200 metri quadri tra i 660 e i 1.125 euro al metro quadro. Tra i 100 metri quadri e i 150 metri quadri tra i 208 e i 1.300 euro al metro quadro. Sotto i 100 metri quadri invece tra i 255 e i 1.785 euro al metro quadro. L'unico stabile nuovo ed in consegna imminente abbiamo lo stabile angolo via Nurra e via Cervi che molti di voi avranno visto della 2W Costruzioni con valori residenziali che sappiamo sono circa intorno ai 1.800 euro al metro quadro per un nuovo di pacca. Attenzione quindi nella scelta sempre del prezzo dell'usato perché se ristrutturandolo avesse un valore vicino o pari o superiore al nuovo in realtà un acquirente sceglierebbe ovviamente il nuovo anche se non vedo tante gru nei cieli di Sassi nel Monte Rosello. Un dato importante della zona è sicuramente un numero in calo di casi in vendita quindi rapportato alle richieste questo è un dato che dovete tenere a mente. Ravivate appunto dai mutui CONSAP per i giovani under 36 quindi nonostante l'aumento dei tassi che davvero adesso è anche in lieve calo quindi un momento giusto per mettere in vendita la casa. Qualche curiosità di questo quartiere nel 2023 l'appartamento meno costoso è stato venduto nella zona in via Buonarotti per 14.316 euro pensate un po' e quello più costoso invece in via Buggino 25 per 170.000 euro nel 2022 l'appartamento più costoso invece l'ha stato venduto in via Pigliari per 291.000 euro via Pigliari 3 e quello meno costoso in corso Pasquoli, corso Giovanni Pasquoli per pensate un po' 10.000 euro nel 2023 il valore al metro quadro più costoso è stato venduto in via Cerri per 1785 euro al metro quadro e il meno costoso in via Nurra pensate un po' per addirittura 208 euro al metro quadro nel 2022 il più costoso al metro quadro fu venduto in via Baronia 4 per 1.690 euro appunto al metro quadro e in via Cervi pensate un po' per quello meno costoso per 103 euro al metro quadro. Se avessi qualche curiosità per il valore della tua casa appunto non esitare a contattarci o a contattarmi io spero che questa conversazione sia stata interessante e questo la prossima zona che andremo ad analizzare è quella di Rizzedu Cliniche San Paolo una zona diciamo zona ospedale molto molto richiesta. Alla prossima!